L'invasione su larga scala di Kashin. I separatisti ci impediscono il decollo. Stanno prendendo di mira un nostro incrociatore. Intercettiamo il trasporto a troppe dei loro droghi. Solo i disgregatori possono danneggiarlo. Andate! Tira una granata! L'abbiamo colpito! MTT danneggiato! Andiamo! Trasporto sotto i colpi del disgregatore Aioni! I trasporti sono al primo waypoint! Per i nostri fratelli! 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 Eccle fratelli fratelli! Ti vincitare! infused proof! È Ổ Maio me Eccle fratelli insieme quella mtt sta subendo dei danni fuoco col disgregatore aglioni, centro perfetto ultimo, quei cosi possono essere danneggiati disgregatori aglioni sul bersaglio, mtt colpito colpo perfetto sull' mtt occhio, arrivano i cloni non sono codardi facciamolo i sistemi dell'mtt stanno cedendo troppo veloce per voi a me le vostre armi costante difendermi tornare dal tuo maestro dovresti assurda questa violenza fatto che voi siete sottovalutati voi ci avete giudichi forse me dalla grandezza ripensarci abbandonare la missione tornare dal tuo maestro dovresti affrontare l'oscurità sconfiggerci non potete attra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu sarai... Vado qui, voi siete. Vado qui. Vado qui. Vado qui. Vado qui. Piacere, ciò io non trovo. Sottovalutati voi ci avete. Difficili da espiare le colpe sono. Vecchio sono, ma non letto. Vado qui. Vado qui. Voi siete. Avete già potersi. Morirete. Morirete. Ci restano quei due turbocarri armati Juggernaut in difesa dell'incrociatore. Le ferraglie punteranno ai loro centri di controllo. Dovete difenderli il più a lungo possibile. Favrami. Roppa rapia. Roppa rapia. Roppa rapia. Roppa rapia. Non ci va superato, i te. Roppa rapia. Roppa rapia. Cosa un gentile怎麼樣, sai tu? Un esercito schierato voi avete. Quanto forte tu ti credi? La via dei Jedi. La vita è... L'apprendista setto. Aspetta questo. Allora combatte. Salvare gli amici. Concentrati. Morirete. Tornare dal tuo maestro dovresti. Sconviggerci non potete. Senza rincu. Io agisco. Allora. Allora, Vieni. Pass kg. Attila. Allora. Attila. Allora. Allora, vieni. Allora. Ehi, questo è un cazzo. Arrendermi io non posso. Inchidati al tuo imperatore. Attivo. Siamo uniti. Sono arrivati, rinforzo. Siamo uniti. Esplosivo su Juggernaut A. Restiamo con la squadra. È ora di tornare. Granata, via! Vado avanti. Facciamo una cosa rapida. Il Juggernaut A est si disattiverà se non facciamo qualcosa. Presto! Inutile insistere. Juggernaut perduti. Tenteremo un'ultima difesa dell'incrociatore. Attaccheranno le tubature, anteriori e posteriori. Dobbiamo battere una volta per tutte. Combattete per l'onore e per i Wookiee. È abbastanza a lungo per la vittoria. Granata! Granata! Uno. Assalto ravvicinato. Una. Due lade. Arrivano rinforzi repubblicani! Eliminatevi e andiamo avanti! Abilare il Con te, soldato. 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 Con te, soldato.